E in questa domenica direi che è il giorno di Sephora. Io continuo a sperimentare per voi, stavolta ho forse anche esagerato, però Sephora è un brand che mi avete chiesto veramente tantissime volte, soprattutto da quando sono uscite le due palettine di Elodie, viso e occhi, mi avete chiesto in tantissime di testarle. Non avevo mai provato Sephora, quindi dalla mia faccia, tanto ormai lo sapete, mi conoscete e già sapete anche qui che ne penso, però vi lascio al tutorial, già anticipo però che sicuramente ne farò un altro, il che forse è già sottotitolato che cosa significa, ma secondo me meritano una versione 2 del make-up. Vi auguro una buona domenica, ci vediamo domani, ciao amiche mie. Quindi spacchettiamo insieme. Ho fatto la doccia, asciugato i capelli, non ho messo neanche la crema, perché comincio a provare tutto quanto con voi. Allora, ho preso questo Glow Face Kit, che praticamente ha il rullino, quello per passare la maschera serale, che questa vi farò sapere in un altro momento. Io vado sempre con la mia solita delicatezza. Ci fosse una cosa che vorrei scoprire senza romperla. E insieme nel kit, che ho pagato 19 euro questo mi pare, c'è la crema da giorno in versione più piccola, così la testiamo insieme. Quindi intanto un po' di crema me la metto, perché la pelle tira, tira, tira. E mi applico questi alla caffeina, i patch da sotto l'occhio. E prendiamo, oddio, senza farli cadere, possibilmente i patch alla caffeina. Allora, in realtà io ve l'ho detto più volte che la caffeina è ottima per la zona periocolare, perché appunto tende a sgonfiare. Consiglio di tenerli in posa 5 minuti. Sapete che vi dico invece, ho cambiato idea, mi faccio un caffè a questi 5 minuti. E poi togliamo, facciamo il trucco completo, così spalmo anche il resto su tutto quanto il viso. Fatevelo anche voi, mettete pausa, così dopo ve lo finite di sorseggiare durante il resto del tutorial. 5 minuti passati, caffè finito. Direi che è ora di togliere il pezzo. E vi posso dire che la sensazione è molto gradevole e sento l'occhio realmente sconfio. Cioè non mi sento più le Samsonite sotto l'occhio, perché calcolate che anche stanotte Aurelio ha ballato la cucaraccia, quindi non erano proprio un granché. Devo dire che ad esempio questi li ricomprerei. Per creare tutta la base ho preso la linea nuova di Sephora e questo è il Best Skin Ever. Io l'ho preso nella colorazione 14p. Mi assicuro che l'apertura sia ok, perché l'altra volta con chi ho fatto così era stato un mio errore, quindi non era un problema di apertura a fondo, ma è un problema a volte della mia superficialità o della mia ingenuità, mettiamola così. Quindi me lo vado ad applicare con il pennello. È un fondo a copertura media, ma non troppo carico. e vi devo dire che questo non mi dispiace. Per quanto riguarda i correttori, ne ho presi due, perché testo tutto per voi, nel senso sarebbe stato inutile che avessi preso soltanto un correttore senza farvi vedere l'arancio. Quindi ho preso il Peach e allora, il Peach fa parte della linea Sephora, quella normale, mentre il correttore che ho preso nella colorazione 22 fa parte della linea appunto nuova che è sempre la Best Skin Ever. Ad esempio una cosa del correttore, ora che lo sto aprendo, che del correttore la scadenza di questo è di sei mesi, che è un pochino più bassa rispetto a quella normale. Quella del fondo, no, rimane 12. Quindi il correttore è una scadenza, mi raccomando, guardatele sempre queste cose quando le andate ad aprire, perché se poi scadono o per qualche motivo acquistate un prodotto che scade prima rispetto agli altri, ve ne potete dimenticare, però poi è un po' un problema. E vado ad applicarmi prima l'arancio. È un arancio un pochino più forte rispetto a quello che siamo abituate a vedere sia l'orange di Stefania Alessandro che il 58 di Inglot. L'applicatore è comodo, ovviamente essendo liquido, diciamo che per chi non vuole sporcarsi le mani come gli altri compatti può andare bene, però essendo un arancio più forte necessita per forza sopra di un correttore, perché altrimenti rimarrebbe incubente. Ricordatevi sempre che l'arancio vi serve per neutralizzare il blu, a meno che non sia un arancio leggermente pescato che quindi ha già dentro una luminosità per cui potete a volte evitare di mettere il correttore sopra. Allora, devo dirvi che questo mi piace perché come vedete è sottile, non sta stratificando, cioè non mi fa troppe righe, troppe rughe, perché non volevo dire la parola rughe, ma rimane luminoso come piace a me. Sull'occhio non vado con il primer, ma vado con le matite a creare la base su cui fare aderire gli ombretti. Quindi il viso posso andarlo a fissare con la cipria e ho preso quella trasparente sciolta perché ho chiesto anche consigli ovviamente a chi era all'interno di Sephora e vi posso dire anche questo, sono stati veramente, veramente molto carini. Allora, cipria aperta in realtà è carina perché ha la retina, quindi non è quella con i buchini classici. tappo in questo modo quindi non vi perdete troppe cose. Ricordatevi sempre che la cipra trasparente diciamo che nel 99% dei casi va bene, se siete molto scure come incarnato prendetela invece leggermente gialla perché c'era nella colorazione un pochino più dorata che per me sarebbe stata eccessiva, ma se siete mediterranei invece funziona. Allora, la copertura non mi dispiace, sapevo essere una copertura media, però devo dirvi che me lo sento molto molto confortevole addosso. Allora, ero convinta di aver preso anche una matita chiara, ma mi sa che ho sbagliato e ho preso soltanto una matita nera, quindi avrei voluto come vi dicevo fare tutta la preparazione della palpebra con le matite, ma mi sarà possibile soltanto per la parte scura. Quindi a questo punto prendo il pennello dove c'era un po' di correttore e vado leggermente a sfumare con quello che è rimasto nella parte superiore e qui all'interno e leggermente in ciprio. Le scamodacce si trova sempre, cioè non è proprio sempre tutto pronto, il bello della diretta. Sono andata con la matita nera che è una col classica perché ho detto provo la matita waterproof nera di Sephora e vediamo la scrivenza e la sfumabilità. Allora, il nero è molto bello, guardate, è pieno, è bello, non me l'aspettavo, devo dirvi. la cosa che mi sta stupendo tanto è l'opacità e la pienezza di questo nero perché vi sarà successo anche voi mettete la matita nera quel nero che non... no, invece questo è proprio nero, cioè guardate la differenza. Prendo un pennello, ricordatevi che essendo una col sfumatela subito perché altrimenti poi si asciuga. la cosa carina è che come vedete non si spande quindi in realtà è sfumabile fino a un certo punto. Questo significa anche che avrà una tenuta molto alta quindi non usatela a questo punto se dovete prenderla come base preparatoria perché si sfuma poco ma devo dire che come matita nera sembra veramente molto carina. Questa matita non arrivava a 10 euro mi pare di averla presa o a 8,99 o a 9,99. A questo punto prima di andare con gli ombretti però mi disegno le sopracciglia perché mi aspettavo una sfumabilità maggiore che non è una cosa brutta nel senso significa che la matita resisterà tanto quindi essendo una cosa buona passo le sopracciglia e poi vado avanti con gli ombretti. Solo un pur parlay che non è una critica forse l'unica cosa fastidiosa sono le aperture fatte così con la plastica immagino che questa cosa riesca da battere i costi perché il pack fatto con cioè la scatola ovviamente avrebbe portato sui costi però è sempre più semplice da aprire la scatola. Allora matita sopracciglia ho preso questa perché è veramente semplice ad utilizzare come vedete quella di NYX che ogni tanto dirò fuori mina estraibile e scovolino per pettinarle nella descrizione la danno per waterproof vediamo vi dico da passare è molto semplice è una punta più morbida di quella di NYX il che non guasta perché in realtà a livello di sfumatura è più semplice tenetela però non proprio fuori perché essendo più morbida rischiate che si spezzi tutto il trucco lo andiamo a colorare con le due palette dedicate a Deludy perché me l'avete chiesto veramente in 800 miliardi qui la copertura è più semplice perché è in scatola e intanto apriamo quella da occhi che si presenta la vedete prima voi di me perché faccio prima così in questo modo quindi ci sono sia colori passepartout delicati sia colori un po' evidenti e mi sono messa la mia collana oggi colorata proprio perché ho detto diamo un po' di vita vediamo anche questo c'è la pellicolina sopra ha lo specchio molto grande questa è una cosa che secondo me è molto importante perché quando vedete truccare al volo in questo modo è comodo la cosa carina che sono tutti i nomi quindi sono anche semplici da ricordare la colorazione Eludy è la gialla che quindi non possiamo non mettere sapete io parto sempre con quello più chiaro che in questo caso è diletta ed è opaco quindi la paletta sembra molto carina la cosa che secondo me in questo caso manca e quindi ne potete utilizzare uno in più a parte se doveste avere questa paletta e voleste utilizzarla è un punto più luminoso quindi prendete un chiaro più luminoso a parte partirei con questo colore che è molto molto bello sembra quasi un verde oliva quindi prendiamo Claudia Claudia è molto carino non abbiate paura di sfumare perché ricordatevi sempre che a parte il trucco l'abbiamo detto più volte è una sorta di terapia di coccola ma se avete messo un colore che non vi piace lo sogliete e lo rimettete però almeno lo provate perché se no avete le palette con un colore che sta lì che non avete mai utilizzato che è anche un peccato come vedete se io rimanessi su questi toni sarebbe anche carino per tutti quanti i giorni ma a questo punto io lo dì lo devo provare ed è un giallo che scrive ora chi ha provato il giallo sa che ci sono gialli non scriventi non è questo il caso passo un attimo al sotto prima di andare avanti e direi che sotto metto un po' di marise anzi sotto metto un po' di matita nera così vediamo anche la tenuta e vado a sfumarmela con gli ombretti quindi prendo marise vado nella parte esterna sotto però vado anche con un po' di giallo a sfumare se volete cominciare a giocare in realtà avete questi toni questo è un pochino fluo secondo me con i colori che ho posso andare più con questo che è opaco e come vi ho detto quando avete dei toni opachi molto caldi cercate di gestirli con parsimonia il colore è molto bello diciamo che Fabio Galazziale forse non amerà questo accostamento in realtà è una paletta con la quale potete creare tantissimi tantissimi look perché vi potete veramente sbizzarrire da quello più naturale a quello un po' più vivace questo oro perlato me lo posso andare a passare qui sotto io ora farei una cosa riprenderei la matita nera visto che era bella scrivente intensifico l'attaccatura e siccome vorrei passarla a modi e liner con un pennellino sapete che vi ho fatto vedere più volte prendo la pasta della mina vado a tracciare la riga e la faccio anche andare all'interno vi devo proprio dire che la scrivenza soprattutto la pigmentazione di questa matita mi ha piacevolmente stupida avendo scurito con la riga qui poco poco vorrei intensificare e prendo sempre Maryse mascara ne ho presi di due tipi sto aprendo perché uno ha lo scovolino di sedole per le amanti della sedola e un altro invece questo è dovrebbe essere uno degli ultimi usciti questo invece è sempre in linea che è uno scovolino invece più di precisione essendo più piccolino riesce a andare più all'attaccatura si possono utilizzare in combo a questo punto io per farveli vedere ne utilizzo uno su un occhio uno su un altro poi faccio viceversa se no a zero diversa quello scovolino è fatto invece tipo a crescitra per essere in sedola è molto molto bello anche questo che si chiama sides up questo punto leggermente per farli uguali metto uno sull'altro prima che si asciughi ma in realtà è carina anche la combo con questi piccoli voi potreste andare anche se intanto semplicemente nella parte alta per dare più pigmentazione appunto alla punta delle ciglia mascara molto bello questi così piccoli sono anche comodi se vi andate a ripulire se volete passarne un pochino sotto prima di capire se vogliamo ancora aggiungere sull'occhio apro la palette viso composta da quattro colori anche lei ha lo specchietto con la pellicolina che levo dopo e ha un blush rosato un blush aranciato una terra contouring un illuminante questa è figa tanto perché? perché riuscite ad abbinarla con qualsiasi make up o outfit avete avete la versione in arancia avete la versione in rosato e opache che quindi se volete tenere opache le tenete opache ma potete rendere perlate con l'illuminante e avete questa per il contouring quindi questa è una cosa intelligente vado prima con lo scouting e a questo punto potete anche fare una terza combo nel senso non salmone non aranciato ma mescolarli insieme per dare un colore indefinito che in realtà risulta molto più naturale sapete che a me il blush piace luminoso quindi prendo appunto l'illuminante anche perché dobbiamo provarlo e vado sopra l'illuminante è molto bello perché vedete è carne è nude questa sì secondo me proprio sì con questo potete andare a dare quel punto di luce che invece mancava per la palette quindi se prese insieme funzionano allora non mi sono passata ancora la terra perché ho preso anche quella per testarla ho preso una terra di quelle magiche le chiamo io di quelle che sono facili da utilizzare le all season che sono modulabili perché è anche super super scontata mi pare che stava più del 50% sempre vi metto il link del sito queste ovviamente le dovete prendere insieme me le vado a passare un po' su tutto lo so lo avrei dovuto fare prima ma me ne sono ricordata adesso meglio adesso che a video finito e anche questa è molto molto carina perché rimane molto leggera vedete non appesantisce ma da giusto quell'ombreggiatura effetto mi sono data una colorata passeggiando in questo caso in caffarella passiamo alle labbra ho preso due versioni una un po' più strong e una più delicata sapete che la matita labbra generalmente ve la consiglio nude perché a questo punto potete giocarci come volete e ho preso la colorazione 02 che è classic beige anche questa mina è straibile così non mi dite che poi non la temperate colore consigliatissimo paradossalmente anche da solo perché è molto molto bello il nude è il 70 il colorato è lo 04 vi faccio vedere prima la differenza allora questo è il nude e questo è il colorato andiamo di nude il colorato ve lo faccio vedere un'altra volta con un look diverso casomai dai andiamo di nude la colorazione mi piace tantissimo ed è anche molto morbido sulle labbra questo è l'effetto che volendo possiamo anche colorare un po' cioè se voi da qui volete proprio vedere questo fucsia ne aggiungete un po' io direi che questa palette si merita un altro tutorial perché mi è piaciuta molto allora piacevolmente stupita non me l'aspettavo non è che avessi pregiudizi ma non avevo mai utilizzato sephora e devo dirvi che la qualità in realtà invece è valida non comprerei il correttore perché io ho delle fisse assurde per quanto vi riguarda vi posso dire che le due palette le ricomprerei sì la matita sopracciglia la ricomprerei sì la matita occhi assolutamente sì i mascara assolutamente sì matita labbra sì rossetti cioè tinta labbra vi faccio sapere la tenuta sì matita labbra direi anche assolutamente sì e a me è piaciuto molto quindi vi faccio sapere come si svilupperà durante la giornata ma fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate io continuo con le sperimentazioni ovviamente rientra nella categoria non low budget perché quando sono arrivata alla cassa mi ha dato un attimo lo scompenso nel senso non ho pagato tanto quanto se fossi andata da MAC se fossi andata da Inglot però non rientro nella categoria super low budget però io vi posso dire che come vi spiego sempre una via di mezzo ci deve essere perché il cosmetico non si può secondo me pagare un euro perché dipende sempre cosa c'è all'interno quindi linci leggeteli sempre vediamo una buona giornata o meglio una buona domenica perché avendo registrato oggi che è sabato probabilmente lo metterò domani che è domenica ci vediamo domani ciao amiche mie grazie a tutti